ciao a tutti da me e da rosettino molto bene allora anche oggi siamo qui per aprire un uovo di pasqua aprire le uova di pasqua è molto molto divertente quindi anche ora anche oggi le apriremo o apriremo o le respiro parlato troppo velocemente allora oggi siamo qui con questo bellissimo uovo dei pokemon c'è qualcuno che non piacciono i pokemon domanda molto interessante a me piacciono allora diciamo che quelli quelli molto molto vecchi li conosco abbastanza bene quelli nuovi questo so che pica su questo sinceramente non so chi sia figuraccia però non fa niente non fa niente chissà quello che mi chiedo davvero è che cosa ci sarà qui dentro ci sarà un piccolo pokemon ci sarà qualcosa dedicato qualche accessorio con su un adesivo dei pokemon o una roba del genere tra poco lo scopriremo ma prima ma prima ma prima ovviamente vi dico dove l'ho preso e quanto l'ho pagato perché sennò che cavolo siamo qui a fare questo l'ho preso al famila a 5 euro e 90 mi sembra molto bene molto bene allora come possiamo ben vedere è dei pokemon con sorpresa senza glutine da dolci preziosi cioccolato finissimo al latte perché non ne fanno mai fonde in tutti alla tutto al latte allora devo dire che la carta non è dei pokemon la carta è solamente ci sono dalle stelline o si no delle campanelle non mi sembra ovviamente ci sarà del rumore perché è sacchettame però dobbiamo capire penso che abbiano preso questa carta e poi diverso abbiamo messo questo per ogni categoria diciamo così perché mi sembra molto base allora vediamo un po le informazioni che ci dicono se qualcuno può interessare ovviamente qualche cosa abbiamo cosa molto interessante la raccolta differenziata very well qua ci dicono la data di scadenza molto bene qua ci sono tutte le cose ingredienti dove è stato fatto queste informazioni e poi ci dicono che questo uovo e da 150 grammi molto bene molto bene speriamo di trovare una sorpresa carina prima di tutto e magari anche utile come quello che era successo con le lol molto bello come perché essendo che anche il coro delle lol era dolci preziosi per quello quando ho messo questo esattamente qui riesco a levare tutto tac così poi vediamo anche un attimo la carta stacchiamo questo e dietro non c'è scritto assolutissimamente un tubation molto bene mettiamolo qua vicino a pomettino pokemon penso che erano tutte così le etichette dei pokemon allora tiriamo il cordoncino bellissimo che apprezzo molto le nuova di pasqua anche se l'ho fatto un po indirolare questo vediamo tira tira quindi la piccina su dello scotch no cordino bianco molto bene molto bene mettiamolo qui c'è molto spazio di manovra per fare queste cose esatto esatto come dicevo prima vediamo la carta è tutta bianca sono un po quello della kinder può essere come colori non lo so non lo so non lo so molto molto carina molto molto carina mi piacciono molto questi disegnini qua adesso vediamo com'è l'uovis 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 sembra intatto adesso lo tiro su eccolo qui ora prendo questo prendo la carta vuoto e la lanciamo ed è caduta olè olè ora abbassiamo che inquadrature spettacolari che inquadrature spettacolari qua ci dice buon natale ma siamo a pasqua quindi ok facciamo così perché qua ci va l'uovis dobbiamo tenere protetto l'uovis qua c'è il bicchierino di plastica e lo togliamo dalle maravanas e abbassiamo qui oh oh ok e ora è giunto il momento di aprire questo uovis allora oh si è aperto molto facilmente non mi sta arrivando profumo il profumo di cioccolato perché vai vuoto c'è scritto pokemon c'è scritto pokemon c'è un pikachu c'è un pikachu ok ho non usato il cioccolato perché non mi arrivava nessun nessun venticello cioccolatoso giriamo ok abbiamo un piccolo pikachu ma il libretto no no cos'è sa cos'è cos'è mi stanno già girando allora mettiammi all'uovo e cerchiamo di capire cosa è questa roba allora guarda pomettino come lì pomettino ha capito anche lui che questa sorpresa eh vabbè allora allora forse è un libretto dove si può scrivere questo potrebbe ribaltare assolutamente la situazione mini quaderno pokemon oh si è bellissimo qua c'è bulbasaur qua c'è squirt qua ovviamente c'è charmander questo che non so chi è questo nemmeno questo è molto carino ma non so chi è oh questo è snorlax qua c'è la sfera pochè eh questo è mew ok oh qua c'è jigglypuff come sei carino come sei carino oh 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 poi cavolo come si chiama questo porcaccia porcaccia ghostly può essere può essere non lo so adesso in questo momento mi sembra ghostly ma poi anche può poteva veramente oh c'è ivy qui qua c'è ivy fatemi sapere come si chiamasse questo l'ho azzeccato e qua alla fine c'è ivy è bellissimo è bellissimo pensavo fosse una cacatina un libretto che diceva due cacatine sui pokemon invece mi piace un sacco wow questa cosa ha ribaltato la situation ha ribaltato la situation ha ribaltato la situation ok questa sorpresina mi è piaciuta giriamo mini quaderno pokemon oh guardate qua che scicchieri involucro sorpresa plastica ok bellissimo 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 ma perché questo pokemon è triste però no oh come si felice bellissimo oh veramente veramente bello molto bene perfetto qua ho scritto pokemon vedete qua dietro scritto pokemon si molto bello molto bello pomettino ti piace questa sorpresa sei soddisfatto si si all'inizio c'è stato un po' di timore che potesse essere tipo quelli illustrativi che ti dicono magari il pokemon cosa fa cosa non fa invece questo è molto bello chissà cosa ci scrivo cosa posso scriverci qui sopra non lo so non lo so non lo so oh molto molto bene molto molto bene eh fatemi un po' sapere ovviamente cosa ne pensate di questa sorpresina se anche voi all'inizio eravate un po' titubanti che poteva essere una cacatina invece no e se avete preso questo uovo dei pokemon fatevi sapere ovviamente voi che cosa avete trovato dentro che sono molto curiosa molto molto bene e niente quindi che cavolo devo dire ora un po' niente non so vi ricordo instagram link amazon e patreon giù nell'info box ci sono tutti i link trovate tutto molto molto bene venitemi a trovare sostenetemi un bel cuoricene per voi grazie mille c'è stato un momento un ruttino così improvviso quindi pomettino è giunto il momento di salutare bravo e niente io vi ringrazio di aver guardato il mio video vi mando un sacco di bacini ciao ciao ciao